Nuove polemiche dopo la pubblicazione sul sito Notav di un video in cui un carabiniere parla di lacrimogeni e d'altezza uomo, ma l'episodio non è collegato all'attivista ferita. Nuove accuse dei Notav alle forze dell'ordine, in un video si sentirebbe un carabiniere affermare di avere lanciato due lacrimogeni ad altezza uomo. L'episodio risale al 13 aprile, dunque non correlabile con il caso dell'attivista toscana ferita sabato Gabriele Russo. Un nuovo video a gettare ulteriore benzina su un fuoco che in Val di Susa non si è mai spento. La voce registrata, questo afferma al movimento Notav, sarebbe di un carabiniere l'oggetto, i lacrimogeni lanciati sui manifestanti da giorni in lotta contro la costruzione del nuovo autoporto di Santidero, struttura collegata all'alta velocità Torino-Lione. Ne ho tirati due in faccia sulla strada, si sente piuttosto distintamente, senza tuttavia possibilità di individuare con certezza chi queste parole le pronunci. I carabinieri al momento non rilasciano dichiarazioni, sui social sono centinaia in poche ore le interazioni con questo video che risale al giorno 13 aprile. Impossibile dunque associarlo al ferimento sabato di Giovanna Saraceno, colpita al volto, sempre secondo i Notav, proprio da un lacrimogeno esploso ad altezza uomo. Sul caso interviene anche la questura di Torino, secondo cui è impossibile che la ferita sia stata provocata da un lacrimogeno che, spiegano da Corso Vinsaglio, in caso di contatto con la pelle lascia ustioni visibili. Intanto la battaglia Notav prosegue, due attivisti da giorni sul tetto del presidio a Santidero si sono incatenati in segno di protesta accusando le forze dell'ordine di bloccare rifornimenti di acqua e cibo a loro destinati.